SIGLA con mio figlio il problema è risolto e come fai le venerdì dovrebbe far finta di essere mia moglie ma che dice mi scusi don pietro io sono disperato un fratello ritardato che mia moglie a volte mi picchia come sto andando sto pensando di ammazzarmi e beh mi sembra minimo senti va ti volevo presentare un mio amico io conto fino a tre poi la prendiamo tu devi essere contento per questo dolore vuol dire che il signore ti sta mettendo a prova ma vaffa buona serata